l'ipnosi da film scusate suonata una sveglia che interrotto un po il video facciamo questa seconda parte per cui tu devi convincere la parte di te che comanda veramente dentro di te nella tua vita visibile visibile il tuo corpo nella tua mente e voltare pagina se vuoi cambiare mindset il mindset ragazzi è importante per ogni cosa per il lavoro per le relazioni per il sesso per il benessere per la salute per tutto il mindset e la condizio sine qua non condizio sine qua non e per cambiare il mindset devi cambiare il tuo pilota automatico il genio della lampada di aladino il tuo subconscio il tuo subconsciente finché non lo educhi a tale fine tu non potrai mai dire montagna spostati cadrei sempre nelle acque del dubbio del dubbio è logico che l'ipnosi dicesse che un metodo dcs unico al mondo del dottor caldo saracino che proviene direttamente los angeles baby hills da due grandi artisti dell'ipnosi vera e professionale la dottoressa rima brunini del professor dottore michelanghel garai non ha nulla ripeto a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi conformista commerciale di development brian west milton ex oppure ottima quest'ultima perché il sottoscritto è partito da quest'ultimo ha ottenuto eccelsi risultati nessuno dice il contrario ma segue come suggestione dcs come creazione ad arti queste suggestioni come metodo dicesse un qualcosa di veramente unico al mondo che quando l'ho visto nel 2008 la prima volta esclamato wow 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 dove ero dove stavo dove perché ci avevo messo tanto tempo a scoprirlo e poi diventato il mio metodo metodo dicesse a tal punto che ne sono innamorato a parte essere un professionista dell'ipnosi dicesse vera professionale un metodo dicesse unico al mondo in tutto il mondo te lo posso garantire e anche è grazie a questo che io mi ipnotizzo h24 e io mi ipnotizzo da più di 12 anni anche adesso sono ipnotizzato anche se non sembra ai comuni mortali neanche gli esperti di ipnosi vera professionale non mi vergogno a dirlo mi interessa è tutto naturale mi sento bene mi sento al settimo cielo cammino sulle acque mi sento top del top ogni santo giorno che sono su questa terra la mia mission è quella di vendere audi mp3 dicesse che sono gestiti e venduti dall'associazione i prologi associati los angeles baby hills ma di diffondere e divulgare il mio metodo dicesse ripeto ancora una volta unico unico al mondo perché unico e perché si differenzia tutto il resto che c'è in giro perché non ti ruba tempo non ti fa mettere gli auricolari non chiede la tua partecipazione non ti stressa non ti impegna serve per chi non vuole il tuo aiuto o chi non può avere o il tuo aiuto l'aiuto di nessuno né online e dal vivo eccetera 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 e poi le suggestioni dicesse sono un qualcosa che io fino al 2008 non avevo mai 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 visto né notato in nessun altro sistema ipnotico mondiale mai eppure ti posso garantire che ho letto più di 2000 libri ho sperimentato tutto di più su internet in tutte le lingue immaginabili e possibili ma nulla arriva a queste suggestioni dicesse che provengono per il 70 per cento questi due grandi artisti e l'ipnosi vera professionale la dottoressa lina prunini e il professor dottor michi ranghi il grado di los angeles miei mentori miei maestri mi associati miei amici per l'eternità ecco la mia mission diffondere anche la loro esperienza oltre le mie dirette indirette fammi tutte le domande del caso vista la mia fan page su facebook il prossimo di proseguire dottor claudio saracino a visita il mio sito internet www.iprolegiassociati.com iscriviti su questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo nel 2008 e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dicesse il dottor claudio saracino un bacio un abbraccio ciao